Ciao a tutti, sono Federico Pepe, responsabile del Dipartimento di Tecnologia del CSM College di Verona e oggi vi mostrerò cos'è Logic Remote e come funziona. Logic Remote è un'applicazione gratuita che ci consente di controllare le funzioni di Logic Pro X tramite il nostro iPad. Per chi non lo sapesse, la versione 10 è l'ultimo aggiornamento del software professionale di produzione ed editing audio rilasciato da Apple ed è acquistabile sul Mac App Store per 179€. Per usare Logic Remote è sufficiente collegare l'iPad e il computer su cui avete installato Logic Pro alla stessa rete Wi-Fi, aprire le due applicazioni e aspettare che Logic Remote trovi il computer. Prima di cominciare a usare l'applicazione, concentriamoci un secondo sull'interfaccia. Nella Control Bar, ovvero la parte più in alto dell'applicazione, a sinistra troviamo il pulsante View, con cui possiamo decidere quali controlli visualizzare nella parte centrale dell'applicazione. Il tasto Library, invece, ci permette di navigare nella libreria di strumenti e suoni del software. Abbiamo poi la Transport Bar, con i classici comandi Stop, Play e Record e il Display, dove ci viene mostrata la traccia che abbiamo selezionato sul software e la posizione del Playhead. Cliccando sul Display si apre un'ulteriore barra di controllo, con la quale possiamo scorrere avanti e indietro il brano su cui stiamo lavorando, mentre se clicchiamo e teniamo premuto visualizziamo i marker. Sulla destra, infine, troviamo i comandi per attivare e disattivare la Cycle Mode e il metronomo. Il pulsante Settings e il pulsante per attivare l'Help. La prima View di cui vi voglio parlare è Smart Help, che, come dice il nome stesso, è un'idea davvero semplice e sono sicuro che tornerà utile a molti di voi. Attivando questa View, infatti, l'iPad diventa un secondo schermo con un manuale interattivo che si aggiorna in base a dove puntiamo il mouse all'interno di Logic Pro. Come potete vedere, la velocità con cui questa avviene è davvero incredibile. Ma passiamo ora alle cose più divertenti. La seconda View è Smart Controls & Keyboard. Una volta selezionata, l'interfaccia sull'iPad si aggiornerà automaticamente in base alla traccia selezionata. Se clicco su una traccia di basso, i comandi diventano quelli di quel canale. Se ritorno sulla traccia di pianoforte elettrico, i comandi torneranno ad essere quelli di prima. Rimanendo in questa View, posso selezionare diverse opzioni, ad esempio la scala da utilizzare per essere sicuro di non suonare note sbagliate. Vi ricordo che la tonalità di base si imposta sul progetto di Logic Pro. Se seleziono una traccia di pianoforte o synth, come in questo caso, posso attivare o disattivare l'arpeggiatore, selezionare la grandezza della tastiera sullo schermo, oppure scegliere come deve rispondere l'interfaccia se scorro il dito sulla tastiera, con un glissando, con uno scroll, oppure modificando il pitch. Le cose cominciano a farsi interessanti, ma se proviamo a suonare degli accordi, ci accorgiamo che, pur essendo uno schermo multitouch, sull'iPad è molto facile posizionare le dita sulle note sbagliate. È per questo motivo che abbiamo la View Chord Strips. L'interfaccia è molto semplice. Se tocco la parte bassa dello schermo, suonerò il basso degli accordi, mentre nella parte centrale, l'accordo in rivolti differenti in base al punto in cui tocco il display. Se vogliamo modificare gli accordi, dobbiamo cliccare sul pulsante Settings e selezionare la voce Edit Chords. Se selezioniamo una traccia di Drum Machine, la View si aggiornerà con i classici Drum Pad. La particolarità di questa View è quella di premere con due dita un Pad e poi allontanarle, come siamo abituati a fare per ottenere l'effetto zoom. Più allontaniamo le dita e più la rullata sarà veloce. Se selezioniamo invece un kit acustico, viene visualizzata una batteria, il cui suono dipenderà da dove posizioniamo le dita. Benché la View Mixer sia molto potente, non voglio soffermarmi troppo su di essa. Si tratta, in breve, di poter controllare con l'iPad il mixer di Logic Pro. Possiamo regolare i volumi muovendo i fader, il panpotto dei canali, mettere in mute o in solo una traccia, così come scrivere delle automazioni. Sono sicuro che questa View velocizzerà il lavoro di molti in fase di mixing. Ultima, ma non ultima, la View Key Command, che ci permette di controllare alcune funzioni del software come taglia, copia e incolla, direttamente dall'iPad, evitando quindi di usare mouse e tastiera. Correndo a destra, nella terza pagina abbiamo 18 slot che possiamo personalizzare e utilizzare per le funzioni che usiamo più di frequente. Per concludere, questa applicazione è una delle novità più interessanti della nuova versione del software. Apple ha spiazzato il mercato offrendo un'app gratuita che si integra perfettamente con il software Logic Pro. Una volta provata, vi divertirete così tanto ad utilizzarla che difficilmente tornerete al mouse e alla tastiera. Non mi resta che ringraziarvi per la visione e arrivederci al prossimo video.